Sì, è riuscito a colpire la palla su un'inveccata di Federico Macchiello sotto porta, una rete fantastica da parte di Sergio Macchiello che è fusiato su questo cross da destra, spiccante di Federico Macchiello e da pochi passi in acrobastia ha messo la palla nel sacco, quindi porta il punteggio sul 2-2.